con il comune di Rimini. Sì, Romagnolo è creativo, creativo quasi anarchico, però abbiamo un territorio dove la sanità e il sociale riescono a raggiungere livelli di eccellenza proprio perché c'è questo interscambio, questo aiuto tra comunità, gruppi, cittadini, arte, artisti, anche gli stessi professionisti e questo è un po' il segreto della qualità del nostro territorio dove si rimbocca le maniche e si prova a fare qualcosa, in questo caso degli artisti provano a fare qualcosa per l'associazione contro il dolore, l'AIL, che quindi l'ISAL che è un percorso molto virtuoso per noi e siamo molto contenti di questa realtà che riescono a sviluppare questo valore aggiunto a tutto il territorio. Diciamo che i riminesi stanno entrando in quello che sarà la stagione estiva, però la presenza di tante persone o testimonia proprio la voglia di cultura, di arte, c'è un bel fermento in questa città. La cultura che poi è espressione della nostra umanità e quindi dovunque ci sia la produzione di arte, di cultura, è perché c'è un'umanità che vuole vivere, vuole comunicare e sono contento di vedere che a Rimini c'è questa voglia di partecipare, di vivere, di mostrarsi. Grazie alla creatività dei pittori riminesi, i fondi raccolti andranno a sostegno della Fondazione ISAL nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente.